Cerchiamo di stemperare la tensione in vista del derby di domani con le parole di Gerry Cardinale. Gerry Cardinale che, lo sappiamo, ne abbiamo parlato nel video delle 20, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera e che illustra un po' i piani, i progetti del nostro Milano. Ha parlato principalmente dello stadio, degli investimenti in Italia, allora voglio leggervi le sue dichiarazioni, le commenteremo insieme e capiremo un attimino ancora meglio qual è l'idea, qual è la visione di Gerry Cardinale. Riguardante lo stadio, lo stadio di San Donato, Cardinale si è espresso così. I presupposti sono incoraggianti, col benestare del comune di San Donato e della regione, che ringraziamo, abbiamo già svolto diverse sessioni molto produttive. La nostra proposta è supportata da un volume imponente di relazioni tecniche e sarà uno stadio all'avanguardia, a 10 minuti di metro dal Duomo. Porteremo i venti dal vivo artisti di fama mondiale e artisti importanti suoneranno lì. L'avevamo anticipato un po' parlando del nuovo stadio, delle nuove news che erano emerse, che erano trapelate riguardanti il futuro dello stadio del Milan a San Donato. E proprio questa intervista, queste dichiarazioni hanno confermato quanto avevamo raccontato. Ma ancora, ha parlato degli investimenti in Italia da parte di una proprietà straniera, in questo caso di un fondo. Qui mi sento a casa, quando abbiamo comprato il Milan in America, mi dicevano, siete pazzi, non potete fare affare in Italia, c'è la burocrazia, c'è la politica. E quando ho pensato di costruire un nuovo stadio, mi è stato detto, scordatelo, hai visto cosa è successo a Roma? Ma a parte che sentirmi dire che non riuscirò a fare una cosa aumenta la mia determinazione, io vedo l'Italia con occhi diversi, penso che gli italiani siano collaborativi e aperti al dialogo. Mi piacerebbe investire di più qui, quando costruiremo il nuovo stadio, sarà un progetto da un miliardo di euro. E sarebbe un bel segnale se fosse sostenuto anche da capitali italiani. Sarebbe una risposta a chi sostiene che in Italia non si può fare impresa. Quindi anche riguardante l'investimento dello stadio, ci racconta, cardinale, ci racconta il numero uno di Redbird, che l'investimento sarà da circa un miliardo di euro, di dollari, finanziati dagli investitori che contribuiscono alla gestione del Milan insieme a Redbird. Poi ho parlato anche del Moneyball, dicendo, da quello che leggo, sembra che se sei un esperto di dati, allora vuol dire che non fai bene allo scouting. È ridicolo. Moneyball è stato scritto 20 anni fa. Oggi tutti utilizzano i dati, ma nel nostro portafoglio c'è un'azienda di analisi con 13 ricercatori del MIT. Il calcio europeo non è il baseball, che richiede un diverso livello di sofisticazione e noi crediamo di essere all'avanguardia. Quindi molti tifosi paragonavano il calcio al baseball di questo modello che poteva essere poco traslato in un altro sport. Invece Cardinale dice no, nella nostro gruppo di società in cui investiamo abbiamo una società di analisi, di dati. Ecco che è il valore aggiunto interno che abbiamo noi rispetto agli altri club. Quindi raccontiamo Cardinale, vediamo Cardinale molto determinato nel fare lo stadio, perché lo stadio avrebbe un ulteriore slancio allo sviluppo rosso-nero. Uno sviluppo che adesso è stato condizionato tanto dai buoni risultati sportivi, ma anche dalle sponsorizzazioni, dall'aumento di sponsorizzazioni che verrebbero ulteriormente, possiamo dire, valorizzate, ulteriormente potrebbero essere, potrebbero garantire uno slancio con un nuovo impianto, con nuovi eventi, con una diversificazione di entrate e di servizi. Quindi Cardinale è pronto, è determinato, è voglioso di rendere Milan un grande club. Sicuramente per interessi personali, interessi personali che però, ovviamente, porteranno valore, gioia a tutti noi tifosi del Milan. Fatemi sapere amici, di Rubrica Rosso Nera cosa ne pensate? Come sempre, cliccate like e si vedete nel canale YouTube di Rubrica Rosso Nera.